Acqua liscia o frizzante, gratis nel bel mezzo di piazza municipio a Napoli. E' stato inaugurato il primo distributore di acqua pubblica, omaggio del comune a cittadini e turisti assetati. Un'iniziativa in linea con la battaglia perseguita dal sindaco De Magistris per il referendum sull'acqua pubblica. L'acqua non è e non può mai essere oggetto di logiche predatorie, ma è un bene comune, un bene di tutti, deve essere pubblica. Noi siamo contenti che in questo giorno abbiamo qui davanti al comune inaugurato una fontana di acqua pubblica. Quella inaugurata in piazza municipio è la prima delle quattro fontanelle che saranno a disposizione dei cittadini. Le altre tre sono previste in punti altrettanto strategici della città, come l'aeroporto di Capodichino, la stazione ferroviaria di piazza Garivaldi e la stazione marittima. La colonnina è predisposta per ogare acqua naturale e addizionata e almeno per il momento funzionerà gratuitamente.